L'Odissea ci ricorda questo. Quando sembra che il destino sia perduto, quando si è naufraghi all'interno della propria vita, quando si è in mezzo a un mare senza punti di riferimento, come si fa a ipotizzare di salvarsi? Parlando con il cuore, scoprendo che se il cuore resiste, la terraferma è lì, Itaca, prima che fuori di Ulisse, è dentro di lui. E allora resisti cuore è quel momento in cui Ulisse parla a se stesso, noi ne abbiamo fatto sempre l'eroe dell'intelligenza, ma è questa intelligenza collegata al cuore. Lui parla con il cuore e in questo ritrova se stesso. Dal cuore poi a poco a poco emerge come terraferma ciò che appunto invece la vita, col suo divenire, con le sue fatiche, aveva messo in discussione. Credo che questo riguardi tutti noi che la leggiamo e io mi sono reso conto che ha riguardato me. Nel momento in cui mi sono ritrovato esule, naufrago, all'interno della mia vita e provo un po' a raccontarlo all'interno del libro, ciò che mi ha salvato è questo ritorno al cuore, proprio come elemento di terraferma quando sembrava che tutto invece fosse liquido, finito, infinito come il mare. Invece la terraferma era lì perché il cuore è come Itaca, tutto fatto e tutto ancora da fare.